Lo sportello del cittadino si trova a Taranto, alle mie spalle l'ASL di Taranto ed è molto significativa questa location riguardante il quesito che intendo porre al direttore generale dell'ASL di Taranto, l'avvocato Stefano Rossi, alla regione Puglia. Numerosi fisioterapisti tarantini mi hanno sottoposto questo interrogativo e mi hanno chiesto di fare da megafono, da amplificatore rispetto a questa problematica. Come mai l'ASL di Taranto non bandisce concorsi o avvisi pubblici per l'assunzione di fisioterapisti? A Taranto, l'ASL di Taranto non bandisce questi concorsi. Viceversa, nelle altre province pugliesi, a Bari, a Foggia e altrove, questi concorsi ci sono. Non a caso Bari ne ha in graduatoria 300 e già 140 sono stati assunti, altri 27 sono stati assunti dalla ASL di Foggia, scorrendo appunto le graduatorie relative ai concorsi banditi in quella provincia. A Taranto, lo ripeto, concorsi non sono stati banditi. Anzi, addirittura arriviamo al paradosso che due o tre anni fa l'ASL di Taranto ha attinto dei fisioterapisti da una graduatoria bandita dall'ASL di Bari che risale addirittura al 2010. Allora io dico, ma Taranto non ha una sua identità, non ha una sua autonomia? Perché dobbiamo andare a prendere i fisioterapisti da altre graduatorie di altre province pugliesi? E ripeto la domanda, perché a Taranto non viene bandito questo concorso per fisioterapisti mentre in altre province sì? E la domanda che io pongo, perché Emiliano, il presidente Emiliano, perché poi le ASL dipendono dalla regione, il governatore Emiliano che dice di essere tanto amico dei Tarantini, di amare tanto Taranto, evidentemente non pensa ai Tarantini, visto questo comportamento. Emiliano ha le sue responsabilità perché nell'ultima consigliatura è stato assessore alla sanità, ha mantenuto per sé la delega, ora c'è lo scienziato Lopalco, assessore alla sanità, vedremo. Taranto deve avere la sua dignità in Puglia. Queste cose le stiamo dicendo da anni, da decenni, le sto dicendo almeno per quanto riguarda l'aeroporto, l'aeroporto di Grottaglia è chiuso per i voli civili e invece abbiamo Bari e Brindisi che ci boicottano. L'università, la facoltà di medicina nasce a Taranto ma l'unisalento di Lecce e altri rettori di università pugliesi si scagliano rispetto all'idea che Taranto possa avere un'autonomia universitaria. E qui l'altra stradezza che a Taranto non vengono banditi concorsi per fisioterapisti. Cosa succede? Taranto è la schiavetta? Taranto è la cenerentola della Puglia? Perché poi non lamentiamoci quando poi alcune associazioni, qualche associazione dice lasciamo la Puglia e andiamo in Basilicata. Io sono dell'idea che Taranto è Puglia e deve rimanere in Puglia, però Taranto non deve essere schiaffeggiata dalla regione Puglia. Perciò direttore generale, non per me ma a beneficio dei fisioterapisti Tarantini, da lei desidero qualche risposta. Grazie.